ciao a tutti domenica 28 giugno ci troviamo a pratizzano beach lui e domenico che il mio cameraman di fiducia nonché socio di pratizzano beach al 50 per cento oggi abbiamo deciso di offrire al primo bagnante che si presentava in spiaggia un'escursione quindi adesso andiamo a documentare l'escursione con il nostro bagnante a ridò il telefono domenico ecco qua andrea casotti che si è presentato per primo al bagno stamattina veramente servizio niente adesso andrea farà il suo dovere abbiamo un papaverone non ho mai ricevuto un servizio così veramente molto bello papaverone di pratizzano beach maturo ma perfetto anche i bagnanti sono soddisfatti vi invitiamo tutti nelle prossime settimane ciao a tutti